buongiorno a tutti ragazzi benvenuti sul mio canale se non siete ancora iscritti iscrivetevi attivate la campanellina per essere sempre aggiornati nei miei prossimi video adesso facciamo lo smuota spesa del risparmio a casa iniziamo con il primo prodotto ragazzi abbiamo comprato lava pavimenti poi sapone crema con timbatt elenrico formato risparmio 1500 mille grammi poi abbiamo comprato il DAV del sapone liquido un altro DAV sapone liquido classico tanto è uguale dei sacchetti di spazzatura profumati un altro DAV tre confezioni di di fabuloso fraschezza fiorale per pavimenti questo è il gusto fraschezza marina sempre della fabuloso e questo è fraschezza fiori di loto sempre della fabuloso iniziamo con un altro sacchetto bagno schiuma della DAV bagno schiuma un altro DAV dei profumi deodoranti per la casa un altro deodoranti per la casa un altro della DAV lavapavimenti muschio bianco per la lavapavimenti Vita Rich bagno schiuma detergente intimo e infine un altro deodoranti per la casa gusto talco bene ragazzi questo è tutto un piccolo svuoto a spesa risparmio a casa spero che il video vi è piaciuto commentatelo commentatelo come sempre condividetevelo e ci vediamo alla prossima svuoto a spesa o urbex per gli urbex parlerò che non si sa quando lo potremo fare quando si farà in frattempo farò dei video in casa e poi vediamo un po' sentirò i nostri collaboratori cosa vogliono fare quando vogliono fare l'urbex e vi terrò aggiornati ciao alla prossima